Siamo con Mr. Cornacchia, con il San Lorenzo, primo tempo pessimo secondo me, due gol presi un po' in maniera studia, forse il primo c'era fuori gioco, nel secondo tempo avete fatto vedere cosa sapete fare insomma, per la salvezza ci si va ancora? E ci stiamo provando in tutti i modi, oggi avevamo grossi problemi di formazione, per via di alcune problematiche di infortuni e assenza in rosa, quindi un po' rimareggiati diciamo così, al primo tempo abbiamo giocato male, bravi loro, bravi loro, bravi loro nel gestire la palla, nel crearci pressione e ci hanno messo in grossa difficoltà. Sì, gli episodi dei gol effettivamente è stato un po' di superficialità nel secondo, una marcatura da me già prefissata, come ha detto lei, forse il primo con loro era in netto fuori gioco. Nel secondo tempo, anche se loro comunque hanno avuto altre occasioni, il mio portiere è stato bravo a opporsi, nel secondo tempo sono fatti male anche due altri elementi, quindi ho dovuto ricorrere un po' di alchimie per poter cercare di stare in campo e i ragazzi hanno l'orgoglio di rendere cara la pelle. Ciò che facciamo da diverso tempo, forse come ha detto lei anche i punti non ci vengono, un po' per sfortuna, un po' per alcune superficialità che abbiamo, non meritiamo secondo me l'attuale classifica, purtroppo, per quello che facciamo vedere in campo. Troveremo, troveremo attraverso il lavoro, spero delle soluzioni da qui alle prossime dieci giornate che ci permetteranno di trovare dei punti che ci servono in maniera come l'ossigeno, insomma, per noi, detto questo.